Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Dopo l'ultimo video dei migliori Xiaomi sotto i 100€ non potevamo non portarvi un altro tipo di video che questa volta però riguarda un'altra fascia di prezzo, ovvero i migliori Xiaomi sotto i 200€. Sapete benissimo che questa fascia di prezzo è veramente molto critica perché al suo interno c'è veramente di tutto e di niente, ovvero quegli smartphone che non compreresti nemmeno se avessi un bonus di 200€ e quegli smartphone che in realtà paragoneresti ad altri device da altri 400€. Quindi sappiamo benissimo che Xiaomi in questo tipo di prodotti è diciamo un leader ecco. Per questo motivo ragazzi vi diamo di fare un po' di chiarezza ed andiamo ad analizzare e a vedere insieme quali sono i migliori terminali di Xiaomi sotto questa soglia. Mi raccomando ragazzi se questo tipo di video vi piace lasciate un like per farcelo sapere così che magari andiamo avanti e vediamo anche diverse fasce di prezzo nei prossimi giorni. Quindi ricordatevi. E ora non perdiamoci in chiacchiere e facciamo partire la nostra sigla. E cominciamo subito ragazzuoli con lo Xiaomi Redmi Note 5, proprio lo smartphone che ho qui tra le mie mani. Tra l'altro secondo la programmazione probabilmente questo video uscirà dopo il confronto quindi qualora non l'aveste già visto vi lascio il confronto con gli altri medio di gamma di Xiaomi qui sopra. Comunque dicevo questo è uno smartphone che è uscito da poco il nuovo medio di gamma di Xiaomi display da 5.99 pollici con rapporto 18 noni quindi veramente ampio doppia fotocamera posteriore che assomiglia un po' a quella di iPhone. Comunque uno smartphone molto moderno abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 636 che riesce comunque ad essere molto prestante e abbiamo comunque delle ottime performance in linea generale. Uno smartphone che in questo momento si può trovare a circa 170-180 euro sui vari siti insomma che vi lascio qui sotto in descrizione. Ed è un'ottima alternativa ma veramente ottima tutti i vari dispositivi all'interno della fascia media che magari costano anche più di 200 euro. Quindi se avete a disposizione questo budget ragazzi fateci veramente un pensierino. È importante precisare per questo Redmi Note 5 che è disponibile sia la variante normale quindi quella asiatica che quella global. Quella global ovviamente integra anche il supporto alla banda 20 oltre che la ROM global quindi già pronta all'utilizzo senza dover stare a flashare ROM perché è la variante cinese. Ma ragazzi una cosa che prima che mi scordo in questo video non dirò tutte le specifiche tecniche per filo e per segno perché poi potrebbe diventare troppo noioso. Darò un'infarinatura generale e tutte le informazioni sui telefoni di cui parleremo oggi le trovate qui sotto in descrizione insieme ai link per l'acquisto. Quindi qui sotto ragazzi. Altro giro altra corsa ragazzi adesso parliamo dello Xiaomi Mi A1 uno smartphone che ha significato moltissimo per l'azienda cinese per due motivi molto semplici. Il primo perché è stato il primo dispositivo da parte della compagnia di Lei Yun ad aderire al progetto Android One quindi a bordo avremo un software completamente stock quindi perfetto, veloce, fluido, reattivo e come vi pare a voi. E l'altro motivo è che è stato il primo device ad arrivare ufficialmente in Italia quindi è disponibile anche su Amazon ovviamente il prezzo è superiore rispetto a store come Gearbest, Banggood, Geekbuying e così via per ovvi motivi perché ci sono le varie tasse, l'importazione e bla bla bla. Abbiamo come di consueto un chipset Qualcomm Snapdragon 625 dico come di consueto perché all'interno della fascia media è veramente una costante per quanto riguarda ovviamente Xiaomi ragazzi. Doppia fotocamera posteriore display da 5.5 pollici in full HD con rapporto 16 noni quindi diciamo standard. Il prezzo ragazzuoli è attorno ai 160 euro ovviamente come vi dicevo su store cinesi. Ma già su ebay lo troviamo a 169, 170 insomma ragazzi la cifra è quella è un prezzo veramente molto onesto per un device che si comporta molto bene sotto tutti i punti di vista molto semplice da utilizzare anche per chi è alle prime armi appunto come dicevamo precedentemente grazie al suo software stock. Parliamo però adesso di uno smartphone dalle dimensioni più compatte e dalle specifiche tecniche inferiori rispetto a quelli citati precedentemente. Parliamo dello Xiaomi Redmi 5, uno smartphone con display sempre in 18 noni ma display da 5.7 pollici di diagonale HD+. Abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon 450 e di tagli di memoria da 2-3 GB di memoria RAM e 16-32 di memoria interna. Fotocamera posteriore da 12 megapixel e quella frontale da 5 megapixel con una batteria da 3300 mAh. Quindi anche questa è un'ottima soluzione per chi cerca uno smartphone semplice senza troppe pretesi. È possibile acquistarlo online a circa 100-120 euro quindi è una cifra che varia molto. Mi raccomando ragazzi quando andate ad acquistarlo su uno store cinese fate attenzione che sia presente la dicitura banda 20 oppure frequenza 800 mAh perché altrimenti non è la variante global. Ma parliamo adesso del suo fratello maggiore ovvero la variante Plus quindi Xiaomi Redmi 5 Plus. Uno smartphone sicuramente più grande grazie ad un display da 5.99 pollici di diagonale full HD+, Qualcomm Snapdragon 625 quindi ovviamente andiamo a salire anche per quanto riguarda le specifiche tecniche e anche con i tagli di memoria perché è presente sì la versione da 3-32 ma anche la 4-64. Anche lui ha una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel ed una frontale da 5 megapixel. Anche in questo caso ragazzi mi raccomando quando andate a cercare questo smartphone su uno store cinese fate attenzione che sia presente la scritta bandamenti o frequenza 800 mAh. Comunque per non rischiare qui sotto in descrizione trovate il link con tutti i link per l'acquisto che appunto vi dicono chiaramente qual è quello cinese e qual è quello global. Abbiamo una soluzione però anche per gli amanti dei phablet e no ragazzi non ci scordiamo di voi perché lo Xiaomi Mi Max 2 attualmente è disponibile a un ottimo prezzo parliamo di circa 180-190 euro. Un dispositivo da 6.44 pollici di diagonale con display 16.9 quindi anche questo tra virgolette standard. Veramente ampio è perfetto per il gaming oppure comunque per vedere dei film magari su Netflix e così via. Inoltre abbiamo anche uno speaker stereo che appunto va a favorire poi l'esperienza multimediale in generale. E vai va, saluta che se ne va. Comunque per quanto riguarda il comparto hardware abbiamo anche qui un Qualcomm Snapdragon 625 con tagli di memoria da 4.64 oppure ci sono delle varianti premium diciamo che arrivano fino a 128 GB di storage interno. E per questo smartphone voglio farvi una domanda e vediamo se indovinate. Dico solo Evergreen. Qual è un Evergreen all'interno del panorama degli smartphone medio gamma di Xiaomi? Entiamo? Bravi. Penso bravi in senso magari avete indovinato magari no. Comunque è proprio lui. Lo Xiaomi Redmi Note 4. Uno smartphone che è stato veramente acquistato tantissimo. Che abbiamo amato sia noi che immagino anche voi perché veramente ho tantissimi amici che l'hanno acquistato. Vi ricordo che sono presenti due versioni ovvero quella con il Mediatek e quella con lo Snapdragon. Ovviamente noi vi parleremo di quella con lo Snapdragon che tra l'altro è stato inserito anche nel confronto con lo Xiaomi Redmi Note 5. Nonostante comunque abbia la sua età ragazzi devo dire che questo device si comporta veramente molto bene. Abbiamo sempre uno Snapdragon 625 con tagli di memoria da 3.32 oppure 4.64. Anche in questo caso è disponibile la variante cinese e quella global come vi dicevo precedentemente. E in quella global ovviamente troviamo anche il supporto alla banda 20. Attualmente il prezzo di questo piccolo gioiellino è di circa 120 euro se non vado errato. Ed è comunque un device che non passa mai di moda. Seppur l'estetica insomma non sia al passo con quella attuale ma è normale perché comunque è uscito più di un anno fa. A questo punto penso di avervi detto tutti i migliori smartphone di Xiaomi sotto i 200 euro. Parte di questi ce li ho qui in mano e ora mi casca e anche questa volta io sono veramente curioso di sapere se avete mai acquistato uno degli smartphone che vi ho appena elencato. E se li avete acquistati fatemi sapere ovviamente come vi siete trovati o come vi state trovando perché veramente con questo budget ragazzi non si può comprare di meglio. Vi ricordo che tutti i link per l'acquisto sono qui sotto in descrizione insieme all'articolo con tutte le specifiche tecniche. E qui sotto c'è anche il tasto per iscrivervi qualora non l'aveste già fatto. Quindi ragazzi per questo video è tutto io vi saluto ciao a tutti da Leonardo per GizChina.it